Buongiorno, io sono il dottor Pasquale Converiati, sono un pediatra e lavoro presso la pediatria universitaria dell'ospedale di Pisa. Vi ringrazio per l'invito al congresso I Pinguini, dove parlerò di metabolismo fosfocalcico e vitamina D. In particolare vedremo come l'osso, l'intestino e il rene contribuiscono a modulare l'omeostasi fosfocalcica, quali sono gli esami da richiedere nel sospetto di un'alterazione del metabolismo osseo e come interpretare i risultati. Anche alla luce del fatto che a volte nei referti sono riportati dei valori di normalità per gli adulti che non necessariamente valgono anche per il bambino. Parleremo anche di vitamina D, quando dosarla, come utilizzarla in profilassi sia nel bambino senza fattori di rischio che nel bambino con fattori di rischio. Vi aspetto a Firenze il 10 e l'11 di novembre. A presto, ciao!